Il Comune di Maurador si è giudicato un milione e due per lavori di manutenzioni riguardanti il disesto idrogeologico, un importo importante che andrà a finanziare sia i dissesti di pagliare sia quelli del capoluogo. Sì, sono opere minori ma comunque non di meno importanza. Sono opere che riguardano la riqualificazione sempre del capoluogo, si tratta del rifacimento del Belvedere dietro al Palazzo Comunale, quindi anche verrà effettuato una riqualificazione della scalinata che porta poi dal parcheggio alla piazza Duca degli Abruzzi del capoluogo che era rimasta ferma con i lavori di diversi anni fa. E poi un'altra importante opera è una pista ciclopedonale a Pagliare che collega via Piola Torre, una parte più in periferia di Pagliare, fino al plesso scolastico. Oltre a quel finanziamento altri fondi sono stati destinati al Comune, per opere cosiddette minori per un totale di 2 milioni e 100. Con l'ultimo, il secondo lotto del dissesto ideologico di Galanchi, versante ovest di Morro d'Oro, arriviamo a 1 milione e 2 circa, più 850 mila euro per gli ultimi due dissesti di Pagliare, che sono 450 mila euro per via Fonte Doti e 400 mila euro per via Piola Torre. Questi sono tutti dissesti di oggi che siamo riusciti ad avere come finanziamento. Con gli altri fondi si andrà ad intervenire da una parte sul Belvedere dietro al Comune, dall'altra saranno destinati alla realizzazione di una pista ciclopedonale a Pagliare. Allora, in totale sono tre importanti finanziamenti. Si tratta di un proseguimento del secondo lotto al dissesto qui al capoluogo, dissesto ideologico, quindi di un secondo lotto, quindi 365 mila euro. Un importo poi di circa 850 mila euro per altri lavori di dissesto ideologico per quanto riguarda anche la raccolta acque verso Pagliare, verso la frazione di Pagliare, quindi per un importo molto importante, diciamo.